salve sono il temutissimo ezzelino oggi ospite eccellente nel settimo girone dell'inferno dantesco tengo d'occhio questo strano manipolo di plebei da un po di tempo arrivano si agitano con strane danze tribali e subito in marcia entrano proditoriamente nei miei sentieri di caccia sono forse dei predoni travestiti da innocenti viandanti e sentite questa pulzella mi piace perché posso ammirare tanti fiori 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 ma ezzelino non si fida attraversano i miei fiumi passano impavidi ponti pericolosi e nella campagna si guardano intorno con fare sospetto mi piace perché è l'aria aperta la vichinga sta certamente pensando ad un aguato in campo aperto lo scoprirò avanzano con fiero incedere nei miei villaggi ma non fanno razzie non bruciano le case non avvelenano l'antico pozzo allora cosa cercano questa insignificante cozzaglia nasconde spie del barbarossa o dei trevisani o sono forse dei sicari salgono con tracotanza il colle dove un tempo c'era uno dei miei castelli e dove c'è la bellissima chiesetta rossa adesso zitti ascoltiamoli fa bene al cuore e alla circolazione bruci 240 calorie con i bastoncini allora dico bruciamo tante cose mi piace il nordic walking perché faccio ginastica all'aria aperta sono in bella compagnia posso socializzare acqua e salute riprendono la camminata con grande chiaccherio che sembra di essere in un mercato se ho ben capito amano i fiori fanno ginnastica che fa bene al cuore dalla circolazione adorano l'aria aperta e stare in compagnia bruciano tante calorie io io non ci capisco niente e la prossima volta però mi unirò a loro ehi ehi aspettatemi vengo anch'io ahahahahahahahah對吧